A San Ginesio per presentare i nuovi bandi del PSR. In questa occasione noi riproponiamo come già in altre occasioni simili la possibilità per le aziende agricole di organizzarsi con delle filiere agroalimentari o anche filiere corte per poter incrementare il valore aggiunto delle produzioni. Questo nuovo strumento che stiamo testando ormai da qualche anno sulla aggregazione di diversi segmenti della filiera produttiva ci sta dando degli ottimi risultati in quanto riusciamo a trasferire valore aggiunto alla produzione primaria. Quindi facciamo un buon servizio alle aziende agricole che riescono a diversificarsi e quindi a riuscire a far quadrare i bilanci perché poi alla fine stiamo tutti lavorando per quell'obiettivo. Viste i prezzi che da qualche anno stanno comprimendo il mercato delle commodity abbiamo anche la necessità di poter dare un'alternativa a questi agricoltori. Ovviamente adesso ci stiamo concentrando sulle aree terremotate perché abbiamo questa dotazione importante che viene riservata a questi territori per cui cerchiamo di fare in modo che almeno da qui possa nascere qualcosa che sia anche di esempio per il futuro per tutto il resto della regione. Grazie Grazie